Ciao ragazzi Sto mangiando patatine perché mi alleno Per la festa di Natale che faremo qui il 16 dicembre Ci vediamo alla festa di Natale perché a Grok si balla Vi aspettiamo qui per festeggiare il Natale La nostra festa si chiama Grok Natale in casa di Grok Ciao a tutti Ci vediamo il 16 dicembre la festa di Natale in casa Grok 2.0 2.0 sono sempre più precisa Si mangia E ci sarà X Grok Si trova l'anima gemella Una giuria veramente terribile La sfilata Si balla in pigiama Basta con questi tacchi Con queste robe super cool 16 dicembre 20 e 30 E ci se se hot Alla prossima Grazie per la visione!